Musica Lunedì 11 gennaio, buongiorno, il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemolise e come ogni lunedì in apertura del nostro Tg del mattino c'è direttamente la rassegna stampa partiamo dal web, dal giornaledelmolise.it, questa è l'apertura di oggi, avviso di sfratto a frattura Vincenzo Niro, il consigliere regionale dice subito una verifica di coalizione il giornaledelmolise.it ospita in apertura proprio il contributo, l'intervento di Vincenzo Niro l'ex presidente del consiglio regionale del Molise sull'attuale situazione politica e in particolare la sua opinione per quanto sta avvenendo all'interno del PD e sul rispetto dei patti preelettorali. Le altre notizie, vasto incendio tra Toglio, Lemma Falda, disagi sulla Trinina, 115 sul posto l'incendio ieri sera intorno alle 20.30 e poi da Termoli disagi alle case popolari di Via Asia l'ascensore non funziona da due mesi, Istat dal 2002 al 2015, Molise 7.000 residenti in meno Venafro due soluzioni per ridurre l'inquinamento da polveri sottili in Via Colonia Giulia e poi Massimo Romano l'ex consigliere regionale che dice il PD anno nuovo, vita nuova compresa le catombe ancora per quanto riguarda il PD spaccato, rinviata di 15 giorni l'assemblea regionale poi falso allarme e bomba sui binari, disagi tra Basso e Termoli alla decrisi la CGL sollecita la politica a non perdere tempo e poi a scorrere le altre notizie vi segnaliamo come al solito le sezioni editoriali, idee ed opinioni dove c'è anche un contributo del dottor Mino Dentizi sulla tutela della salute che passa anche per corrette politiche alimentari e poi le notizie dalla regione e dall'Italia queste le prime pagine dei giornali regionali oggi in edicola partiamo da primo piano Molise, andiamo a leggere le notizie l'apertura è questa, non solo PD, Niro punta i piedi e rivendica un posto in giunta è la stessa notizia che abbiamo visto anche sul giornaledelmolise.it a guadagnare l'apertura oggi, l'ex presidente del Consiglio si appella all'accordo preelettorale e chiede una verifica di metà mandato all'interno della coalizione fibrillazioni in ordine sparso dopo l'assemblea DEM ma frattura, tira dritto l'assessore va a disernia, ha detto il governatore e poi trivellazione alle tremiti, si allarga il fronte della protesta in campo pure Verdi e 5 Stelle da esernia, sanità pubblica e privata, il comitato bene comune del Veneziale chiama a raccolta, Venafro rissa in centro, due giovani finiscono in ospedale rischiano entrambi la denuncia e poi cerce maggiori, i padri domenicani lasciano il convento vertice in chiesa, adesso si spera nella mediazione e poi troviamo come ogni lunedì i titoli di sport a partire dal campo basso, serie di calcio, campo basso da playoff sotto gli occhi di Ali Berti che è l'ex patron della Salernitana l'umpia al quarto posto con i gol dei giovani di Pasquale e Lucchese l'ex patron della Salernitana appunto apre ai rosso-blu mai direi mai, ha detto e poi la Vispesaro infierisce su un'isernia rattoppata De Bellis pesano le troppe assenze Paolucci per quanto riguarda l'Agnone un buon Agnone va a capa o nella Tana del Fano più forti di prima, cresceremo il calcio regionale, il vasso Girardi ritrova il primato la dauna non molla, pare di emozione al poce di Riccia campo di pietra e frentania proseguono nell'inseguimento dall'Abruzzo Iaboni mantiene la vastese in vetta Brodino-Sansalvo interrotta la striscia del cupello il Casalbordino batte l'Ortona, Marina beffato vediamo anche il quotidiano del Molise andiamo a vedere i titoli sotto la testata anche qui l'apertura nero a frattura i patti si rispettano e si decide con la coalizione nomina del quarto assessore che è il tema politico delle ultime ore, degli ultimi giorni e poi anche questa, l'assemblea del PD Fanelli si torna a dialogare per il bene del Molise intanto altra notizia il Vescovo Bregantini incontra le parrocchie pronti a vivere la bellezza del sinodo da Isernia, Sanità, Pastore, Medici in fuga dal Veneziale Venafro, sabato sera Violento, due giovani in ospedale poi andiamo a leggere anche sul quotidiano del Molise i titoli di sport Lupi, la rimonta continua Di Pasquale e Lucchese stendono la miternina in tribuna anche Aniello Aliberti è sempre per la Serie D andiamo ad ingrandire questo titolo doppia sconfitta purtroppo Isernia, Brutto, K.O. a Pesaro l'Agnone cede di misura a Fano eccellenza il Vasto Girardi vince e si riprende la vetta cinquina d'Auna promozione campo di Pietratris Frentania sorride Pari Cerce, la Santeliana si esalta diamo uno sguardo anche all'home page di Futuro Molise, il quotidiano telematico questi titoli termoli al decreto ministeriale che autorizza le trivilazioni in Adriatico l'amministrazione comunale di Agelo Sbrocca dice no e poi oltre 60 giovani riuniti a Pietracuba per la presentazione di Moli Hub calcio a 5 troviamo anche questo titolo di sport il Venafro vince il derby pentro e conquista il titolo di campione d'inferno ancora Vincenzo Sulle nuovo dirigente del commissariato di polizia di Termoli da Isernia, Assemblea regionale PD un disastro annunciato interviste agli onorevoli Venitelli e Leva sono gli approfondimenti di Futuro Molise poi con lo scherz ramascano in concerto torna Termoli musica e c'è anche l'intervento dell'assessore regionale Facciolla archiviata indagine portaborse mi hanno rivoltato come un calzino dice l'assessore regionale alle politiche agricole uno sguardo adesso ai quotidiani nazionali in edicola oggi il Corriere della Sera andiamo a vedere quali sono gli argomenti trattati in prima pagina a centropagina c'è il titolo più importante Colonia più di 500 denunce continuano ancora gli strascichi su questa vicenda Palazzo Chigia intanto allontana l'ipotesi di depenalizzare il reato di clandestinità per quanto riguarda la politica interna ma le moleste di massia in Germania nuovo caso in una discoteca della Vesfalia e poi c'è l'affondo di Renzi su rope riforme Grillo dimissiona la sindaca di quarto per quanto riguarda ancora la politica interna e anche questa notizia questo fatto sta facendo molto discutere vedete la foto Sean Penn in intervista al boss se l'artista sfida la legge Casa Bianca le parole di El Chapo fanno infuriare e fa discutere molto l'intervista che Penn ha realizzato con El Chapo il boss del narcotraffico arrestato nelle ultime ore poi le indagini parallele del PM antimafia accusi a Donadio oggi alla Commissione Moro 119 interequatori all'insaputa dei colleghi andiamo a leggere anche i titoli sulla prima pagina di Repubblica quarto la resa dei 5 stelle via il sindaco è l'apertura il diktat di Grillo noi diversi dal PD ma la Capozzo dice non mi dimetto e poi colonia attacco pianificato molestate la donna bianca questo sarebbe il diktat e poi il governo tedesco branco nato online colpite 12 città ed una discoteca stessa foto anche sulla Repubblica El Chapo l'ultima follia di Sean Penn con riferimento alla notizia di cui abbiamo parlato prima e che abbiamo trovato anche sul Corriere della Sera questa è la stampa Gas Putin chiede aiuto a Renzi il presidente russo ha bisogno che l'Italia entri in Nord Stream per superare le obiezioni di monopolio dell'Unione Europea mentre Roma è allo sprint nella corsa ad un seggio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU e poi centropagina sindaca di quarto in bilico Grillo la licenzia sul comune cambano l'ombra della Camorra Capozzo resiste ma ammette valuterò l'ipotesi di dimissioni che sono state richieste proprio da Beppe Grillo andiamo a leggere anche i titoli sulla prima del fatto quotidiano ancora sulla vicenda a Banca Etruria la Boschi perde la testa incompatibile la ministra salva papà e attacca visco ma non doveva star fuori questo l'interrogativo del fatto e poi doni di Stato la versione di Renzi o solo un Rolex però tace sugli altri replica e conferme sulla rissina rabbia saudita rottura quarto Beppe Grillo ordina dimissioni ma la sindaca resiste il leader attacca sul blog la Capozzo dice non lascio e poi amministrative centropagina Sala e Marchini Milano e Roma sono un bell'affare chi c'è dietro e perché hai due candidati imprenditori delle due grandi città italiane andiamo a leggere anche i titoli su Libero sulla prima pagina di Libero apertura tutta pagina chi guadagna di più correnzi conti in tasca al Parlamento redditi monti su del 168% giallo napolitano mega aumento per il tesoriere del PD Boschi Giù Guttel taglia se stesso la politica non sente la crisi più di 100 hanno cambiato auto e moto e ben 87 hanno una nuova casa cauti in borsa questo l'approfondimento di Libero di oggi chi si rivede il piano di Santoro per tornare in tv e poi si parla delle violenze dei clandestini di Capodanno nuove denunce assaltate in discoteca da un'ordine da un'orda di 500 assaltate sono state anche qui nella discoteca in Vesfalia molte donne andiamo adesso a leggere i titoli sui quotidiani romani partiamo dal messaggero droghe leggere nuovo caso depenalizzazioni grana nel governo la coltivazione della cannabis illecito amministrativo intanto escono dal penale anche ingiuria e dati osceni clandestinità Renzi non nel prossimo consiglio di ministri passo indietro appunto sull'abolizione del reato di clandestinità e anche qui colonia 500 abusi governo ammette una regia unica e c'è la stessa foto di Sean Penn con il ciapo la stretta di mano tra il ciapo e Penn l'attore americano e il boss latitante fotografati incontrò Penn in Narcos quando era latitante vediamo anche il tempo che apre a tutta pagina così referendum anche per le olimpiadi unioni civili immigrazioni trivelle riforme prostituzione scuola lavoro torna alla moda della consultazione popolare che non risparmia Roma 2024 appunto la candidatura di Roma alle olimpiadi e poi sotto la testata l'ex cacciato si dimettano tutti i 5 stelle caos a quarto parla Orellana che è appunto l'ex 5 stelle cacciato candidato alla presidenza del senato per i grillini e poi espulso e poi l'Inps spinge sulle pensioni anticipate altre notizie il nodo della previdenza ospedali romani nel caos tempi di attesa infiniti e ricoveri in ambulanza il mistero di Firenze americana strangolata sotto torchio il fidanzato dal tempo di Roma passiamo a leggere il mattino di Napoli i titoli del mattino di Napoli qui ovviamente l'apertura è dedicata a quarto alla vicenda della sindaco Grillo a quarto dimissioni e voto Movimento 5 stelle scarica il sindaco l'onestà a un prezzo Capozzo prova a resistere dice valuterò appunto la richiesta che viene dal leader del movimento ovviamente ampio spazio alla vittoria del Napoli a Frosilone con la conquista della vetta della classifica in Serie A che bella cosa il titolo molto emblematico del Martino Napoli campione d'inverno dopo 26 anni dell'Aurente si dice Blindo Sarri e rafforzo la squadra ampio spazio quindi alle vicende sportive oggi sulla prima pagina del mattino che però in basso approfondisce questa notizia le molesti attacchi organizzati la denuncia di Berlino Renzi frena sull'abolizione del reato di clandestinità ed ovviamente il titolo è riferito a quanto avvenuto la notte di Capodanno in Germania in diverse città come sta appunto venendo fuori proprio in queste ore andiamo a leggere in chiusura anche la gazzetta sportiva ovviamente spazio Napoli manita sullo scudetto schiantato il Frosinone con altri due gol del Pipita che è Higuain è campione d'inferno dei laurenti Seblinda Sarri e ora due rinforzi intanto la Juve presa l'Inter vetta a meno due di Bala in venta Pogba e Chedira segnano la Samp non basta Cassano per Allegri nono successo di fila e secondo posto appunto dopo l'affermazione di ieri contro la Samp d'Ori intanto che Sprechi Mancini punito al 94esimo da Berardi sconfitta l'Inter ai Garcian e ai saluti Roma spunta Leonardo il tecnico è sempre più in bilico dagli Stati Uniti il presidente Pallotta dice la squadra non sa più vincere ci fossi io lì e quindi non si prospettano buone notizie per il tecnico della Roma torniamo in studio per tornare anche in Molise calcio risultati ed immagini delle gare delle squadre morisane impegnate ieri gli highlights della redazione sportiva vediamo i risultati di questa giornata Avezzano San Benedettese 1-2 Campobasso Amiternina 2-0 Castelfidardo Recanatese hanno pareggiato con l'1-1 Chieti San Nicolò Teramo 0-0 Fano Olimpia Campobasso 29-0 San Nicolò Teramo 28-0 Monticelli e Laiesina Il Chieti è a 26 insieme al Folgore Veregra Fermana 24-0 Avezzano 24-0 Isernia 23 punti La Recanatese 22-0 Castelfidardo 22-0 Vispesaro 19-0 Olimpia Agnonese 17-0 Giulianova 15-0 La Miternina chiude la classifica con 14 punti Campobasso batte a Miternina con il punteggio di 2-0 Entrambe le reti maturano nella ripresa Il primo gol al nono del secondo tempo Questo calcio di punizione di Rinaldi non viene bloccato dal portiere della Miternina è più lesto davanti alla linea di porta di Pasquale a mettere in rete il pallone dell'1-0 Al novantesimo quattro uomini in contropiede per il Campobasso a portare palla è l'ander lucchese che non la passa anzi mette in rete il pallone che vale il 2-0 del Campobasso e il quarto successo nelle ultime 5 gare per la squadra di Favo che è davvero in salute Ed ora l'eccellenza Alife Venafro 1-2 Casal Nuovo Gioventù Calcio da 1-0 a 5 Cliternina Macchia 1-3 hanno pareggiato con il 3-3 l'Olimpia Riccia contro il Campobasso 19-19 Pietra Monte Corvino Real Montenero 3-1 Sesto Campano Treppini Matese 0-0 Termoli Roccaravindola 0-1 Vasto Girardi Comprensorio Verano 5-1 ha riposato la polisportiva Gamba Tesa per l'eccellenza Ed ora la classifica Il Vasto Girardi capo in vetta con 40 punti Treppini Matese 39-39 Gioventù Caccio da 1-38 Venafro 36 Alife 31 Sesto Campano e il Termoli sono a 30 punti Il Macchi a 26 Roccaravindola 24 Limpiariccia 21 La polisportiva Gambatesa è a 20 punti Real Montenero 19 Pietra Monte Corvino 16 Comprensorio Verano 15 Cliternina 14 Campobasso 19-19 a 12 punti Il Casal Nuovo chiude la classifica con 7 punti La Cliternina cede in casa ma trova il vantaggio dopo 16 minuti sull'angolo da parte di Difortunato la corta ribattuta di Biasella scarica in rete in Corsa Grazia prena il vantaggio al minuto numero 16 per la squadra di casa Il pareggio del Macchia di Serni arriva al minuto numero 25 Slalom in area di rigore di Mancini che viene toccato da dietro da Marinucci il calcio di rigore che decreta Iuliano la trasformazione impeccabile di Sisti che va a realizzare il pareggio dal dischetto Trova il vantaggio al 34esimo la formazione ospite con l'incursione in area da parte di Mancini il cross perfetto al limite dell'area piccola Desimone sotto misura a scaricare sotto l'incrocio dei pari il gol del sorpasso Chiude con un triss il Macchia di Sernia per il fallo in area di rigore stretto nella morsa di Mancini rigore impeccabile trasformato da Sisti per il definitivo 3-1 con cui il Macchia si impone sulla Criternina al 18esimo il Vasto Girardi al primo affondo passa in vantaggio con Contestabile il raddoppio alto molisano arriva allo scadere della prima frazione ed è firmato da Cipriano alla ripresa il giallo-blu calano il triss con Amicone al 62esimo dal dischetto Fraraccio trasforma il gol del 4-0 arrivati al 65esimo arriva il gol della bandiera del Vairano firmato da Verde i giallo-blu all'87esimo con il gol di Catalano fanno cinquina al comprensorio Vairano ed è tutto per questo primo appuntamento con l'informazione di Telemonesio e vi ricordo il prossimo il nostro telegiornale in diretta alle ore 14 a voi tutti grazie buona giornata grazie a tutti